Siamo in un momento particolare della nostra vita. La formazione è l'unico modo per permettere a tutti noi di poter cogliere le opportunità per il futuro. Il Fondo Forte è un fondo interprofessionale che finanzia le imprese e i propri collaboratori per quanto riguarda la formazione. Informatevi, tanti sono i bandi a vostra disposizione.